Appuntamento all'Ostiense davanti al gazometro per i militanti del centro-sinistra dell'ottavo municipio che si sono ritrovati con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e il presidente uscente del municipio Amedeo Ciaccheri per uno dei tanti incontri in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Un luogo simbolo quello dell'Ostiense dove nel dopoguerra, come ha sottolineato Zingaretti, migliaia di famiglie vivevano in povertà e dove quello che doveva essere uno dei poli industriali della capitale era caduto in rovina a causa dei bombardamenti. Anche Roma ha proseguito Zingaretti dopo 5 anni di Virginia Raggi e dopo quasi due anni di pandemia deve voltare pagine e ripartire e l'occasione si chiama Roberto Gualtieri. Non è mancato quindi il sostegno convinto all'ottavo municipio alla figura di Ciaccheri che ha avuto il merito di essere stato virtuoso nell'investimento delle risorse messe a disposizione. Allora va dato atto e va detto perché altrimenti non si capisce su che cosa devono votare le persone e lo dico da testimone oculare che ha controllato e promosso iniziative che innanzitutto Ciaccheri ha un merito. Tra le tante opportunità offerte dalla regione questo è stato uno dei municipi migliori di Roma a raccogliere le opportunità su cultura, trasporti, pulizia, politiche sociali perché non è vero che è uguale chi governa. Anche Amedeo Ciaccheri ha tenuto a precisare quanto il municipio si sia impegnato molto sul territorio sia sul fronte della riqualificazione di diversi stabili sia nell'ambito della solidarietà. In occasione del centenario di Garbatella sul patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, sul patrimonio ATER con investimenti di più di un milione e mezzo di euro per ripristinare, per riqualificare dei lotti storici. Presenti all'Ostiense oltre ai militanti anche alcuni vertici della coalizione di centrosinistra. Abbiamo una grande opportunità il 3-4 ottobre, quella di scegliere il sindaco di Roma e il presidente del municipio ottavo. I candidati migliori sono Roberto Gualtieri e Amedeo Ciaccheri. Perché dico questo? Perché hanno esperienza, sono persone che conoscono le istituzioni. Ad Ostiense, per Amedeo Ciaccheri presidente, insieme a Nicola Zingaretti, molti anni di collaborazione tra regione e municipio ottavo, collaborazione preziosa. Oggi stiamo qui per dare l'ultima spallata, per mandare a casa la Raggi, per mettere in Campidoglio Roberto Gualtieri e ribadire la presidenza di Amedeo. Ultime battute, facciamo il nostro, non lasciamo solo i candidati, forza, fino all'ultimo voto.